Siete sui canali di LentiCar, automobili per tutti, Fiat Ducato, Cassonato, cabina doppia, 7 posti, immatricolato nel 2008, 23 cilindrato a 120 cavalli, unico proprietario, tutto fatturabile con IVA esposta. Ha percorso solo 87.000 km certificati e garantiti e adesso diamo un'occhiata all'interno e ai particolari. E' dotato di antinebbia, i sedili sono ancora in ottime condizioni, non sono rovinati, non sono scoloriti, guardate che belli. 6 marce, aria condizionata e importantissimo airbag passeggero richiesto a parte durante l'ordinazione poiché non di serie. E anche la zona posteriore dell'abitacolo è veramente ben conservata. E passiamo alla zona di carico, le trasponde sono ribaltabili ma il cassone attenzione è fisso. Se volete conoscere pesi, misure e portata andate sul nostro sito lenticar.it Per questo veicolo garantiamo il chilometraggio e c'è un anno di garanzia di conformità. Per avere ulteriori informazioni alzate il telefono e chiamateci immediatamente o mandateci un whatsapp o una mail se preferite. Ciao! Ciao!